Il Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo da sempre diciamo che è comunque custode della storia dell'audiovisivo. Oggi siamo in un mondo in cui tutto è audiovisivo, dal telefonia ai computer al web, comunque tutto produce materiale audiovisivo. Quello di oggi è stato una giornata di ricordo di quello che è l'importanza proprio di questa tematica. Una mattinata dedicata all'importanza dell'audiovisivo e alla scoperta delle varie declinazioni di comunicazione multimediale antica e moderna. La giornata mondiale dell'audiovisivo non poteva che essere celebrata anche al MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Un momento di riflessione fatto insieme all'UNESCO, quindi al Club per l'UNESCO di Arezzo, principalmente con la collaborazione di Firenze e Torino e assieme anche ad un altro partner che è Rai Toscana. Protagonisti anche della giornata mondiale dell'audiovisivo, ancora una volta, sono stati i più giovani. Il pubblico principale del museo sono le scuole, quindi l'ITIS nello specifico è stato uno dei protagonisti della mattinata che ha visto comunque un auditorium pieno, le classi sono arrivate in anticipo, abbiamo fatto la visita assieme del museo sto fermandoci su proprio le tematiche principali che riguardano la storia dell'audiovisivo tematica poi che è stata approfondita durante la conferenza di Fausto Casi, il curatore scientifico del museo seguita poi dalla parte del futuro della comunicazione multimediale con Cultura Nuova e l'intervento di Massimo Chimenti. Il convegno è stato anche l'occasione per concludere il progetto espositivo Illusione al MUMEC Niente è quello che sembra che ha caratterizzato l'estate del museo dei mezzi di comunicazione.